Archiviata la brutta sconfitta casalinga di domenica contro il Manfredonia, i rosso-blu di mister Logarzo sono ritornati al lavoro per preparare la difficile trasferta in terra pugliese contro il Lassan Severo in piena lotta per evitare i play-out. Sarà una partita non facile per la compagine di Vallo della Lucania, anche perché il mister di Rofrano Logarzo dovrà fare a meno di giocatori importanti. Sicura l'assenza di Capitan Sica, che ha beccato due turni di squalifica. E' stato espulso domenica per protesta vehemente nei confronti dell'arbitro. Espulso invece per una sola giornata Cacaci, che costringerà quindi a cambiare il pacchetto dei difensori centrali. Altra assenza certa è quella di Manzillo, le cui condizioni sono da verificare per il problema al ginocchio maturato nella trasferta di Pozzuoli contro la Putiolana. Una buona notizia potrebbe arrivare proprio in avanti, però, perché potrebbe farcela Tulinieri per domenica e candidato seriamente per una maglia dalla primo minuto. Stesso discorso per l'estremo difensore Spicuzza, con la febbre domenica e quindi assente. Si sta allenando nuovamente con la squadra e domenica dovrebbe tornare a difendere la porta dei Rosso-Blu. La squadra di Vallo della Lucania è chiamata quindi al riscatto dopo la sconfitta casalinga, anche perché poi avrà due turni casalinghi consecutivi contro Cavese e Francavilla. Tre partite importanti per raggiungere la tanto attesa quota salvezza e poi continuare a sperare nei play-off.